Stiamo dando il bentornato al pubblico, a tutti voi cari amici che ci avete raggiunto e che già siete molto numerosi sulle prove speciali. Bene, ci prepariamo a vivere questa edizione 2022, un'edizione che oltre al ritorno del pubblico celebra anche... ...hanno riportato le sue espressioni a favore della corsa automobilistica più attiva del mondo, a favore del patrimonio dei siciliani e della Sicilia. Qualcosa che brilla e deve continuare a brillare e a guardare avanti. E allora grazie a tutti quanti che hanno voluto onorare e celebrare l'edizione 2022 della Targa Florio con la loro partecipazione. Già soltanto i numeri delle iscrizioni hanno fatto registrare un primo e concreto successo con 203 adesioni. 203 adesioni e adesso la triplice validità della 16esca Targa Florio inizia nelle sue declinazioni. Lo faremo tra pochissimi istanti perché partiranno parallelamente due vetture. Una del campionato italiano rally, del campionato italiano assoluto rally Spargo. E la tua siciliana, il delegato fiduciario Daniele VII, che è il presidente della commissione rally. Ed il sindaco Terranova dà il via alla prima vettura. Partono in questo momento il numero 55, Eric Appogliano. La vincendo da un giorno. E in questo caso Suzuki Swift Sport Hybrid. E la prima corrente del lato protagonista della Suzuki Rally Cup. La vincendo da un'altra vettura, che è stato sguagliato. Perché partono due vetture. Il primo pezzo citta è nella Power Stage. Il primo è stato proprio, con il test di alta natura. La prova è veramente successiva. Ci si va, o soltanto su Marche Sport.com, al colloquio di Sky, ma anche su Rye Sport, una dopo la saletta nazionale, un po' di nuova vita. Ci sono un'esprimamenta che prenderà un solito apprendizione a tutti i nostri stati di condizione di gara Capitanato, che diventa facendo un'altra scelta dal suo statuto. E' un'altra scelta, un'altra scelta, un'altra scelta, un'altra scelta. E' un'altra scelta, un'altra scelta. E' un'altra scelta. E' un'altra scelta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.